Ma in realtà è ovvio che noi abbiamo visto con certezza che le varianti sono più infettive e quindi è come se dicessimo, attenzione perché fuori fa più freddo, copriamoci. Io non credo che sia necessario passare tutti, e sarebbe meglio, però io non chiederei così tanto da passare tutti alla FFP2, ma almeno le chirurgiche indossiamole correttamente. Io vedo tantissime persone con il naso fuori dalla chirurgica, che tra l'altro è una cosa esteticamente di una bruttezza impressionante. E come non indossarla? Come pure trasformare la mascherina in un oggetto glamour che faccia pandan con la gravatta può essere elegante, ma quello è un sistema di protezione. Allora, io già inizierei a utilizzarle come si deve, perché nei fatti, un dato importante è le varianti si sono affermate sul territorio non a marzo del 2020, quando eravamo tutti liberi, non nell'estate del 2020, quando c'era stata liberi tutti, ma nell'inverno del 2020, gennaio 2021, quando in qualche modo noi eravamo, non ovviamente in lockdown, ma c'erano le zone arancioni, le zone rosse. Cioè, ce l'hanno dimostrato che sono più cattive. Allora, noi cerchiamo di essere più furbi e prendiamo la mascherina, vorrei che si lanciasse la moda di andare in giro veramente con le mascherine a norma, e che chi ha la mascherina alternativa sia vista non come un elegante, come un alternativo, ma come uno che non sta proteggendo se stesso e gli altri.